È una squadra molto giovane, sono stati degli inserimenti di assoluto valore in queste settimane, in questi ultimi mesi. Giocatori che hanno potuto mettersi in mostra con le due franchigie, Treviso e Zebre, altri che stanno facendo bene all'estero. È ovviamente un gruppo che si sta costruendo, che allo stesso tempo, sappiamo bene il periodo non particolarmente felice a livello di risultati della Nazionale all'ultimo tempo, però questo gruppo ha l'esigenza e la necessità e la pressione anche di dover portare a casa anche dei risultati, ma questo è l'alto livello così, che tu abbia 20 anni, 25, 30 o 35, sei misurato al massimo delle tue possibilità contro i migliori giocatori del mondo e quindi non ci sono anche così tante occasioni durante l'anno per giocare con la maglia nazionale a livello internazionale e quindi non è la stessa attività che c'è nei club, ma credo che questo gruppo sia di qualità, l'ha già dimostrato in queste ultime uscite e ovviamente c'è l'esigenza e l'urgenza di crescere costantemente. Credo che tutti i ragazzi che sono impegnati qui in Nazionale sanno, hanno chiara in testa l'idea di dove si vuole arrivare e soprattutto delle potenzialità che questo gruppo ha. La Francia è senza dubbio una delle squadre che è migliorata di più negli ultimi anni, diciamo non è arrivata la bacchetta magica che ha fatto cambiare il rugby francese, ma è un percorso che è iniziato in maniera profonda dalle giovanili, dalla Nazionale under 20, dal lavoro e dall'attività che stanno facendo i club con le varie accademie. Sono una squadra anche quella molto giovane, io ho potuto giocare con molti di questi ragazzi che stanno figurando ad altissimo livello con la Francia, da Dupont a Antamac, a Cross a terza linea, a Marchand dall'onatore, a prima linea con Bail. Ci sono tanti giocatori con cui ho giocato negli ultimi anni in Francia e devo dire che la cosa che più mi ha impressionato è la loro maturità, nonostante la giovane età. È una delle squadre al momento più in forma in assoluto, con una grande profondità di giocatori ed è sempre una sfida incredibile. Giocare con la Francia, per l'Italia ancora di più, c'è sempre una sfida nella sfida. Sotto un certo aspetto sono molto simili a noi e quindi di questa partita la fa diventare ancora più avvincente.